Si è svolta a Chioggia lo scorso weekend la 61esima edizione del Trofeo dell'Adriatico, riservato alla classe Snipe ed organizzato dal Circolo Nautico di Chioggia. A vincere un'edizione caratterizzata dal vento e da onda formata sono stati Pietro Fantoni e Leonardo Branzini. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per quello che è il forte timoniere friulano, mentre per quanto riguarda il Trofeo della Combinata Adriatica se la giudica Alberto Perdisa. Il podio della manifestazione Chioggia è quindi completato dal duo Rocchelli-Semec e da Perini-Berto che la spuntano sulla parità con Penso Perini.